Mercoledì 2 di febbraio da oggi si amplia e si potenzia la campagna di vaccinazione anti-covid per quello che riguarda la fascia pediatrica tra i 5 e gli 11 anni. Campagna di vaccinazione bambini che è partita a dicembre e che dopo i punti dedicati della Casa della Salute di Vallefoglia, degli ospedali di Urbino e di Muraglia, ora ha una nuova struttura dedicata qui al centro di vaccinazioni della struttura ASUR delle 5 torri in Via Nanterra, da sempre centro di vaccinazioni infantili, ora anche punto vaccini anti-covid, qui ogni mercoledì per quello che riguarda febbraio e marzo vengono convogliati soprattutto i pazienti dei pediatri, in particolare il centro sarà coordinato dai dottori Stefania Tiberi, Eleonora Bartolucci, Bruno Arcangeli e Mauro Mancino. Sono anche i pazienti di noi pediatri ma anche di altri pediatri, cioè tutta la popolazione pediatrica può registrarsi sul sistema poste e prenotare un appuntamento qui, quindi è aperto a tutti, non solo ai nostri singoli pazienti. La situazione ha avuto una risposta molto positiva, sono molte le famiglie che richiedono la vaccinazione di questa fascia di età, 5-11 anni, e quindi questa collaborazione che c'è fra i pediatri di famiglia e la ASL direi che è un bel passo avanti, perché prima dovevamo fare queste vaccinazioni singolarmente nei nostri ambulatori e quindi avevamo delle limitazioni, invece in questo contesto abbiamo un'infermiera, un'assistente sanitaria, abbiamo tutta una struttura che ci consente di lavorare in maniera molto più efficiente, e anche molto più numerosa, quindi questo è un bellissimo passo avanti e le famiglie hanno dato una bellissima risposta perché sono molti le adesioni e penso che anche le prossime settimane avremo di che fare. Noi cerchiamo di collaborare alla campagna vaccinale e devo dire che in questo momento per noi è particolarmente difficile, viste tutte le altre situazioni che ci sono, soprattutto del carico burocratico, a cominciare dal T0, T5, le ricettazioni, che stanno facendo pesare molto sulle famiglie il carico di questo momento, quindi noi cerchiamo di collaborare con il sistema sanitario per alleviare i problemi delle famiglie. Volevo solo aggiungere che la campagna vaccinale pediatrica che è cominciata il 20 dicembre è stata veramente un successo già dai primi giorni e l'aderenza alla vaccinazione è stata superiore agli adolescenti, quindi noi veramente siamo molto molto contenti di questo e vorremmo ampliare il più possibile la popolazione pediatrica vaccinata per tenere le scuole aperte e avere poi tutte le agevolazioni.